salve a tutti amici oggi video insolito insomma vorrei dire che tutti i video nascono subito che fila tutto liscio come l'olio che riesco praticamente a realizzarli in tempi brevi non è così infatti vi rimetto una piccola piccolissima sequenza di errori di vari video non ci sono proprio tutti perché sarebbe stato bello dovuti cancellare per una questione di insomma di spazio in memoria però sarebbe stato bello vedere soprattutto i primi quando registravo praticamente nel nel salone di casa quindi senza alcun riparo e insomma mia figlia era era proprio piccolissima aveva due anni qualcosa del genere insomma si metteva a cantare a giocare faceva rumori insomma allora dovevo un pochino zittire tutti mia moglie mia figlia insomma quindi quelli sarebbero stati più divertenti anche se in alcuni ogni tanto compariva proprio alcuni dei primi infatti è diventata ormai insomma la mascotte del canale se così possiamo dire vi rimetto questa sequenza di errori così per divertirci un pochino va bene ci vediamo ciao ragazzi non vi preoccupate non sta diventando un canale goliardico ma è soltanto giusto per sdrammatizzare un po per avere un po di leggerezza ci vediamo presto con altri video sto preparando altri contenuti questo è uno di quelli ve lo faccio vedere e non vedere però insomma chi mi segue già lo sa e niente a voi questo video con questi errorini e hanno dalla loro e hanno dalla loro anche il fatto che nel caso ci fossimo scocciati nel caso ci volevo dire occhiello di privilegio come si può sentire per lei questo è bello questo è bellissimo questo qui mi ha fatto avere paura detto questo mi aspetta sotto casa questa volta l'hai fatta fuori dal vaso e che ho fatto ispettore tombale ispettore ma che dice ispettore ispettore con fuochi fatui e per quanto tempo sta qua quintana ossetta intanto trinica con fraternità pulitina e il video come vedete un video senza filtri fatto sul banco di confronto di due come vedrete come vedrete un video senza filtri fatto comunicazione che vai che vieni andi con la mamma questa connessione così interrompe mi permette no io scusi noi siamo in quattro come se fosse antenne anche per lei soltanto in due oppure in quattro anche scrivai come falina come antifurto per esempio mercoledì 23 agosto 2023 in un'anonima aggiornata in un'anonima aggiornata aspetti mi porga l'indice eccolo alzi così guardi 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 lo vedi dito lo vedi che stuzzica e brematura anche allora io le potrei dire anche con il rispetto per l'autorità che anche soltanto le due cose come vice sindaco capisce certified pre-owned dopo l'annuncio nel dicembre del 2022 della dopo l'annuncio del programma cpo no 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 attenzione no ma se ne soppaltati secondo l'articolo 12 abbia pazienza se no poster dati per due anche un pochino antani prefettura si è fatta sempre più fitta perché hans wilsoff e d'erst buscherer condividevano la passione per l'eccellenza per loro condividevano la passione per l'eccellenza e la passione mi scusi dei tre telefoni qual è come se fosse terapia tappiocco che avverto la supercazzola dei tre sito volevo chiedervi anche di aiutare a crescere a proposito volevo anche chiedervi se a proposito spiricuda della sbrindolona come se fosse antani come faceva ho provato con supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra ma non funzionava faceva dudu in che senso nel senso una festico e si forse per l'handicapo di altitudine no mettono un po in ombra questo rolex che comunque viene l'uscita del submarino nel 1950 quasi deve essere una finestra aperta uscire controlli